Bentornati su MyFootballJersey, quella che vedete è una maglia per certi versi storica, è l'ultima maglia, se non sbaglio, della nazionale indossata da Diego Armando Maradona nei mondiali del 1994, l'anno in cui stava iniziando alla grande ma poi fu squalificato per dobbling. Una maglia stupenda! We're gonna, we're gonna be two hearts running wild Now the morning is the afternoon, we lay awake in day, the glass so loud Cosa ne pensate? Secondo me la maglia è veramente veramente molto bella, un petto da avere Bellissima questa banda laterale, bello il tessuto della versione player, devo dire che mi ha veramente stupito Il costo poi l'avete visto molto basso, molto vantaggioso, la spedizione è molto veloce, questa è arrivata in 20 giorni esatti Ora vi lascio alla parte finale, prima però iscrivetevi al canale e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate della maglia e quali altre maglie vorreste vedere Per oggi è tutto, alla prossima!